La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Salmo 119 verso 105 Una luce lungo il cammino La lampada e la luce hanno in comune una cosa, illuminano. E in questo versetto sono usate in maniera distinta ma complementare. La lampada illumina il passo e quindi reca sicurezza attimo per attimo. Ma la luce va oltre, illumina il sentiero. Non si può camminare senza sapere dove ci conduce il sentiero. Forse i tuoi passi sembrano sicuri, ma hai la lampada che ti mostra ostacoli nei quali tu possi ciampare. Forse la tua via sembra sicura, ma dove ti sta conducendo? Non camminare al buio, ma impara a dirigere i tuoi passi verso un sentiero sicuro. Gesù è la luce. Soltanto con Lui avrai davvero sicurezza e pace sul tuo sentiero. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Si alzano a volo come aquile. Corrono e non si stancano. Camminano e non si affaticano. Isaia, capitolo 40, versi 30 e 31 Ascoltiamo la parola del Signore. Lasciamoci guidare da essa e cammineremo lungo un sentiero sicuro che ci condurrà verso la vita eterna. Ascoltiamo la parola del Signore. Grazie a tutti.